E' certo che ti accontento! Mi scherzo, il telefono mi è in corso, squilla! E' pronto? Che co? Oh vabbè! C'è una cosa importante! Tu sai che sei il migliore amico mio! E anche lo faccio! E' una cosa che non so come dirtelo, perchè è da mesi che te lo volevo dire! No 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 no! E' praticamente nutro dei sentimenti per te! Ok, che tipo di sentimenti? Lo sai, dei sentimenti forti! C'è che mi sono innamorato di te! Come sei l'innamorato di me? No! Lo sai! No no! Veramente, Gecco! Tu lo sai! No! No! Ah! 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 Non pazziare! Io te lo volevo dire da sempre! No! Lo sai! Oltre a te la amicizia tra me che non ci può essere niente! E dai! Checco! No! 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 Non possiamo quello sperimentico! Ma... Ma eh... Eh già! Ma perché... Ah! Ragazzi! Ero uno scherzo eh! No no! Non è niente vero! Ah! Ah! Ragazzi! Eh! No! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info